Un altro derby siciliano attende l'Akragas domani di scena ad Acireale. In palio punti fondamentali per la salvezza, come ci arriva l'Akragas a questa sfida? Allora, innanzitutto dobbiamo partire dal secondo tema che abbiamo fatto contro i Ragusa. Non tanto per qualità di gioco, ma per fame, per voglia, per ferocia, per determinazione, per voglia di andare a conquistare il punto, il pareggio, anche se sinceramente siamo un po' scontenti, potremmo fare molto di più. E abbiamo la possibilità questa domenica di fare di più, perché è uno scontro diretto, uno scontro difficile, complicato. Diciamo che siamo a pari punti, ma sarà un ambiente caldo, però noi ci dobbiamo far trovare pronti. Che partita ti aspetti, mister, domani? Io sinceramente, vedendo sempre questi ragazzi come si allenano e hanno questo blocco mentale, pian piano stiamo cercando di farlo, di levarlo. I ragazzi sono disponibili, devo essere sincero, mi danno sempre sensazioni positive, amano questa maglia, vogliono lottare per questa maglia. Ci sono momenti che lo facciamo bene, momenti, devo essere sincero, che lo facciamo male. Però siamo qui, siamo vivi e dobbiamo cercare in tutti i modi di ottenere più punti possibili. La Cireale che avversario è? Stiamo vivendo un momento difficile, forse come noi. Un avversario complicato, un avversario che gioca in casa, un avversario di esperienza, agente di categoria, agente che molto probabilmente come noi ha quella voglia di rivalsa. Noi dobbiamo cercare in tutti i modi di metterle in difficoltà, mettere le nostre armi, cercare di dare ritmo, di dare, tra virgolette, continuità nei risultati. Cosa potrebbe fare domani la differenza tra Acireale e Acragas? Differenza la deve fare la voglia, la determinazione e la fame di raggiungere e di scrollarsi addosso la situazione. Si è sbloccato l'EV, adesso ti aspetti qualcosa, da chi, qualcosa in più da chi? Allora, si è sbloccato l'EV, ma non avevo dubbi. Mi è fatto piacere, anzi fa sottolineo che i ragazzi gli hanno fatto i complimenti, quello significa che il gruppo è unito, veniva da tre, quattro partite che il ragazzo ha fatto bene, come altri, finalmente si è sbloccato, sono convinto che inizierà il suo campionato perché noi abbiamo bisogno dei suoi gol, ma non abbiamo bisogno solo dei suoi gol, abbiamo bisogno dei gol degli altri e metterci a disposizione per questa maglia e cercare di lottare dal primo all'ultimo secondo.